e bentornati ragazzi in questo nuovo video e come vedete siamo in survival e da oggi inizia una bellissima serie la ultra vanilla è una serie che ci saremo solo io e voi e come vedete mi sono già trattato un po io di roba e niente come vedete lagga un po perché siamo in una versione non vecchia vecchissima 1.4.4 però tranquilli l'ultra vanilla potremmo aprire pure nella versione un po più recente se ce la faccio nella 1.10 guarda in cielo allora per nace cosa ci andiamo a mettere andiamo a cuocere del mondo del contrario così per forza ecco il piccone ecco allora organizziamoci le cose crafting qua ci devo incratto fare qualcosa allora andiamo a craftare una pala perfetto ok visto che ci siamo mettiamo il legno qua così ci prendiamo la sabbia ok 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 Perfetto. Risaliamo. Prendiamo la carne e ne ho cuocere qua. La notte sta arrivando. Non abbiamo neanche trovato delle pecore per farci un letto. Mangiamo. Favoci a fare, diciamo, per cominciare un piccolo rifugio. Intanto il materiale ce l'abbiamo. Andiamo a prendere le torce. E aspettiamo. Intanto possiamo scavare di sotto. Carbone. Ah, ce ne siamo fuori. Vabbè, vabbè. Manca ancora un po', eh. E lei non ce l'abbiamo. No. Non ce l'abbiamo. Aspetta, ma ce l'avevamo. Oh, ma dai. C'è scomparso dall'inventario. Andiamo un po' a tagliare gli alberi. Qua io sono scioccato, eh. Ma vi sembra normale? Sì. 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 Non sai giocare a Minecraft. Qua non mi fa andare a prendere. Mi basta il lag, lo sai? Vabbè. Ragazzi. Per questo video possiamo concludere. Supportate l'ultra vanilla. E... Lasciate un pollice in su. Buona giornata.